Goll e spettacolo nella prima in casa del notaresco che ospita la Vigor Senigallia per dimenticare in fretta la debacle di Roma. Si gioca allo stadio Ugetto di Febo di Silvi Marina a causa lavori sul manto erboso del Savini e a porte chiuse per la squalifica combinata dopo quanto accaduto nella gara contro il Fano della scorsa stagione. I marchigiani ambiziosi vogliono altri tre punti dopo quelli ottenuti in casa contro il Termoli. Fischia Emanuele Ciaravolo di Torre del Greco. Gara frizzante sin dall'avvio che fa già capire le intenzioni. Primo squillo del match dopo appena 60 secondi di gioco. Pesare si lancia in porta Serfilippi, Ferri si oppone e salva il notaresco. I rosso-blu di casa non stanno a guardare e dall'altra parte Belloni recupera il pallone all'interno dell'area ma non riesce a colpire. Con il passare dei minuti cresce il notaresco sfruttando sempre più la corsa di Intinacelli sulla sinistra. In area Marrancone ci prova per ben due volte senza successo. Nel momento migliore dei terramani la Vigor Senigallia trova il vantaggio con un'azione personale di Carriota che parte in solitaria sulla fascia destra e senza trovare opposizione arriva tu per tu con Barzanti e lo batte. La reazione del notaresco si concretizza al ventesimo quando Marrancone sulla destra sterza va giù. La sfera finisce dalle parti di Belloni che fa 1-1 ma la gioia notareschina dura appena un minuto. Sulli sviluppi di un'azione elaborata il signor Ciaravolo ravvisa un tocco di braccio di Bonfiglio sul cross dalla destra indirizzato in area. Dal dischetto Capitan Pesare si incrocia forte. Barzanti intuisce ma non può nulla. Per 20 minuti il notaresco fatica a reagire. Al quarantesimo di Bartolo suona la carica con una conclusione dalla distanza. Un minuto più tardi Bonfiglio si fa perdonare. Il numero 10 vince un duello e scarica in diagonale alle spalle di Alessandroni fissando il punteggio di 2-2 con il quale si va a riposo. Le immagini di Umberto Furria ci portano alla ripresa che si apre nel migliore dei modi per i ragazzi di Alessandro Bruno. Bonfiglio ubriaca Schaeffer che è costretto ad atterrarlo all'interno dell'area di rigore. Ciaravolo indica il dischetto per la seconda volta. Rigore guadagnato e trasformato da Bonfiglio che dagli 11 metri è glaciale e firma la doppietta. Ancora una volta il notaresco si rilassa dopo la rete e la Vigor colpisce subito come in occasione del secondo vantaggio. Alla doppietta di Bonfiglio risponde quella di Cariota che fa partire un tiro potente e preciso che si insacca sotto la traversa. 3-3. La gara non perde di intensità. Nessuna delle due formazioni si accontenta del pari. Marrancone conduce. Serve Belloni che conclude ma trova solo un corner. All'undicesimo azione perfetta dei padroni di casa. Belloni restituisce il favore precedente a Marrancone che va in porta. Alessandroni respinge sui piedi del classe 2006 Saccomanni che in tapinne riporta in vantaggio il notaresco che stavolta non si abbassa e vuole allungare. Al quarto d'ora Marrancone in spaccata si divore il 5-3. La Vigor Senigallia prova a riprendere in mano la gara. Al diciottesimo il solito Cariota mette in difficoltà Barzanti. Il numero uno se la cava con l'aiuto del palo. Ma il ventunesimo non può nulla sulla conclusione diretta all'angolino del neentrato Mori che ristabilisce la parità. 4-4 è un match infinito. Appena dopo la mezz'ora Pesaresi in sospetta posizione di offside riceve un suggerimento dalle retrovie. Ma tu per tu con Barzanti spreca così. Sospiro di sollievo per Antezze e compagni che al trentottesimo vanno a pochi centimetri da un altro vantaggio. Marrancone servito da Braghini lascia partire un tiro a giro che stuora il palo lontano. Grazie ad una deviazione decisiva. Non succede più nulla. Finisce 4-4 la sfida scoppiettante tra Notaresco e Vigor Senigallia con la sensazione che entrambe le squadre abbiano qualcosa da sistemare nel reparto arretrato.